Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74. In questo canale puoi imparare a disegnare e colorare i figurini di moda a mano libera. Oggi prendiamo un figurino da questa rivista e andiamo a rifare un disegno sulla base nera di un figurino di Chanel. Il risultato finale del video di oggi sarà questo disegno qui. Quindi, oggi vedremo come rappresentare la tecnica missa per fare un figurino di alta moda. Bene, se ti interessa questo argomento iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità. Io sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74, ci sono molti altri tutorial. Se ti interessa iscriviti, vediamo il tutorial e poi fammi sapere cosa ne pensi. Un grande saluto da Patrizia, ciao! Patrizia, ciao! Grazie a tutti. 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 Un grande saluto da Patrizia Fatto74, al prossimo video. Ciao!